Le sorprese che si incontrano al lago piatto in Pratignana. Sono sul cimone e abbiamo trovato un cigno. Si, ci si sente? Si, ci si sente? Si, ci si sente? Questo è un po' più grande. No, perchè? Stavo provando, ci ha trovato bene qua. Guarda, ci sta andando. Questa è un po' più grande. Quindi, ci si sente? Sì. 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 Grazie a tutti.